Bella a tutti e tutte Freeweaders, aggiornamento importantissimo! Oggi è arrivata finalmente la notizia che tutti si aspettavano e che in realtà davamo già per scontata, ma finalmente è ufficiale! Jacopo Morrone non è più il relatore del DDL Magi e Molinari Accoppiati. Viene spodestato finalmente perché non ha portato a termine il suo lavoro di sintesi dei due DDL e quindi il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Mario Perantoni dei 5 Stelle, ha deciso di prendere per sé, nell'ufficio di presidenza di oggi, il mandato di relatore e quindi sarà lui ora a dover stendere la sintesi di questi due DDL e dunque trovare una quadra su quella situazione e portare alla discussione e al voto, alla Commissione Giustizia, quanto prima ci auguriamo, stiamo già monitorando le date libere, un testo base sui DDL Magi e Molinari che noi ci permettiamo di suggerire, come avevamo già fatto, avrete visto sicuramente la nostra proposta di sintesi, altrimenti trovate il link nei commenti in questo video, ma ci permettiamo di suggerire che sia molto più indirizzata a garantire, a tutelare la coltivazione personale per un minimo di un numero di piante chiaro e che sia depenalizzato, decriminalizzato, desanzionato, insomma, tollerato e autorizzato. E allora cerchiamo di spingere in questo senso per cercare, quanto meno, come detto, di riaprire il dibattito in Commissione, quindi a livello nazionale con i media e nel dibattito della società civile e soprattutto poi di portare questo minimo testo di legge in votazione alla Camera, che è un primo passo per aprire il dibattito nazionale e vedere davvero a che punto siamo con la possibilità di arrivare a un punto di svolta importante, seppur minimo, seppur relegato, ma è un punto di svolta importante. Siamo sempre stati tutti d'accordo che la coltivazione personale deve essere la base e quindi essere inclusa in qualunque forma di regolamentazione. Non deve essere mai esclusa e dunque ottimo che si parli di questo, ma è necessario rilanciare il dibattito a livello nazionale e non soltanto che ne parliamo noi del settore e quindi molto bene la proposta di tutte le associazioni di volersi riunire in una specie di manifestazione nazionale il giorno che ci sarà l'eventuale discussione di questo testo o alla Camera o anche nella Commissione Giustizia, magari una manifestazione più ristretta, ma sicuramente importante e rilevante, come quella che c'è stata oggi al Ministero della Salute, di cui stiamo preparando uno speciale che uscirà domani in mattinata e noi quindi continuiamo a insistere e ringraziamo tutti gli attivisti che si stanno sbattendo, che ci comunicano notizie, che presenziano, che informano, che portano avanti questa lotta perché dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere compatti, dobbiamo smetterla di guardare chi fa cosa, come ho detto tante volte, iniziare a compattarci verso una rivoluzione, verso una riforma condivisa e verso dei passi avanti effettivi. Bella a tutti i Free Withers, accogliamo questa importante notizia, ma non smettendo di premere verso per Antoni, perché ora serve arrivare a una sintesi e serve farlo velocemente. Bella a tutti i Free Withers, ci aggiorniamo presto. Fino a Libertà